Eccoci, abbiamo tanti soldi che possiamo anche pagare, le ditte che più sono simpatiche al potere AKPMG, le aziende ospedaliere e cliniche, quello che è vicino al cuore del potere politico romano e calabrese, anche due volte. Gli altri aspettano, gli altri falliscono, gli altri vanno a gambe per l'aria perché non li paghiamo nemmeno in presenza dei decreti aggiuntivi. E' quanto sta capitando nell'indifferenza della magistratura a Reggio Calabria e quanto sta emergendo attorno a Villa Aurora. Villa Aurora, lo diciamo da ora, segnatevi la data, segnatevi l'esempio ed è la madre di tutte le ruberie nel settore della sanità. Ricostruire la storia di Villa Aurora sarà importante per capire come è stata depredata la sanità calabrese perché su quelle vicende c'è il silenzio di molti organi di informazione nazionali che sono di solito molto attenti alle strutture calabresi. Seguendo le vicende di Villa Aurora noi capiremo perché la Calabria è condannata a non uscire mai dall'emergenza, perché solo tenendo nell'emergenza sanitaria si possono continuare a fare le cose che si stanno facendo, ma non che siano tutte esterne le responsabilità. Il buon commissario dell'ASP di Reggio, Gioffè, ha messo la firma su un decreto che paga 6 milioni che Villa Aurora non doveva avere e dirà adesso, anzi ha già detto, si è giustificato, ma me lo ha chiesto KPMG. Sì, lo avrà pure chiesto KPMG che è l'organo che doveva verificare, però dentro la delibera mancava la firma del responsabile di ragioneria, mancava la coppia del decreto ingiuntivo che certificasse il credito, mancavano una serie di atti che non è che mancano in tutte le delibere, caro Gioffè, mancano solo in quella delibera. Perché l'hai firmata?